Entrato in camera, fu colpito dal lampeggiare della segreteria telefonica. Il fatto lo incuriosì e pensò che cosa ci potesse essere, visto che nessuno chiamava mai così tardi. Schiacciò il pulsante e subito riconove la squillante voce del commissario capo. Domani devi prendere il treno per Vicenza delle 7.55, passa in centrale, prendi i documenti del caso che dovrai seguire, leggi il tutto e è arrivato a destinazione chiamami. Ti devo spiegare alcune cose importanti, buon viaggio. Risconti puntò la sveglia alle 6, prese il borsone da viaggio e gli buttò alcuni indumenti e se ne andò a letto. È venerdì 20 febbraio e ci troviamo alla nave De Vero, qui in questo corner del Porto Bianco, ristorante Tapas Gourmet, per la presentazione del libro del giallo La Baita Rossa di Renzo Di Francesco, che è qui con noi, l'autore. Allora Renzo, una bella soddisfazione direi. Continuano le presentazioni e continua l'affezione del pubblico nei confronti di questa tua opera. Sì, infatti, sono molto contento. Il pubblico risponde sempre ottimamente e andiamo avanti così. Continuano quindi le storie di Marco Visconti, di questo commissario, del quale tra l'altro forse avremo modo di vedere anche un film e forse anche un sequel proprio del libro stesso, di cui Renzo sta già scrivendo alcune pagine e ce l'ha raccontato proprio questa sera. Sì, infatti, sto scrivendo il secondo libro. Quindi vi ricordiamo La Baita Rossa di Renzo Di Francesco, Alcione, editore. Grazie a te e grazie a Fausta, grazie a tutti voi che siete intervenuti.